Musica Villaggio San Francisco a Corle di Villagia Pasana Croazia di Holiday.com Sicuramente in vacanza Bentrovati al meteo Arriva un nuovo sistema perturbato Nel Mirino ci sarà il nostro territorio interessato ancora da frequenti temporali Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 4 agosto Sul Veneto il tempo peggiora fortemente sarà infatti come vediamo una giornata spiccatamente instabile con molte nubi dappertutto e con piogge diffuse un po' su tutte le province della nostra regione Attenzione perché non sono esclusi fenomeni anche violenti con grandine e forti colpi di vento Generale calo delle temperature minime tra 16 e 19 gradi valori massimi compresi invece tra i 23 e i 27 gradi Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia anche qui tempo molto variabile con cielo grigio e con precipitazioni un po' ovunque Temperature minime tra 17 e 19 gradi valori massimi oscillanti tra i 25 e i 28 gradi Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige dove avremo temporali anche in questo caso dappertutto e localmente potranno essere anche di moderata intensità dunque attenzione Temperature minime intorno ai 16 e 17 gradi massime infine sui 25 e 26 gradi Dal Meteo per ora è tutto vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3 Villaggio San Francisco a Caorle di Villagia Pasana Croazia di Holiday.com Sicuramente in vacanza Grazie a tutti Grazie a tutti